La cosa che mi diverte oggi che sono qui come relatore, mi diverte perché è un titolo che nessuno mi ha dato mai, ma perché in realtà non è un merito? Allora un relatore è uno che si relaziona, che fa cose per illuminare le menti, ma c'è stata un po' di confusione evidentemente, cioè si pensa, siccome uno parla al microfono può fare tutto dentro quel microfono, ma il microfono è un oggetto freddo, dentro ci puoi recitare, ci puoi cantare, dentro puoi annunciare, ma qui non c'è nessun annuncio da fare, non c'è nessun film da doppiare, non c'è nessuna canzone da cantare, però c'è un tema, io quando sono stato invitato non volevo venire, un po' perché effettivamente questo non è il mio mestiere e quindi non so che cosa dirò, mi sono scritto due cose, ma ho dovuto lavorare perché io in realtà sono un operaio, non a caso quelli nostri si chiamano turni, quelli del doppiatore si chiamano turni, allora sono tornato a casa alle 10 di sera e ho pensato, e tra l'altro io adesso qui mi voglio sfogare perché basta con questa dizione, questa articolazione, questo italiano neutro e ho pensato, e mo che cazzo dica essa gente? Però, ripeto, c'era il tema, Abruzzo forte e gentile. Ho saputo che una frase di Primo Levi, perché me l'ha detta un amico mio colto, pensavo, in realtà, e non sto dicendo una bugia, pensavo fosse una frase di dannunzio dedicata al parrozzo, piuttosto, ma veramente, piuttosto che, che ne so, uno slogan di un amaro fatto con le erbe del gran sasso. Allora, l'Abruzzo è forte, come posso dire, è troppo forte, diciamo, dalla sua ancora gentile invisibilità, spacciata spesso per unicità. L'Abruzzo è forte dei suoi muri difensivi, che non hanno mai difeso nessuno, ma anzi hanno piuttosto invitato la gente ad andarsene, a cercarsi qualcosa di interessante fuori di qui. L'Abruzzo è forte perché l'Abruzzo non ha bisogno di niente, nemmeno tutto, la montagna, l'omare, la collina, l'olio migliore, il vino migliore. Ed è vero, nessuno toglie all'Abruzzo queste cose, però, se questo incontro vuole essere la possibilità di uno spunto, ecco, lo spunto che io porterei oggi è molto semplice, è molto banale, è l'opportunità di aprirsi al mondo. Cioè, dopo Carsoli e Oricola, c'è un mondo, ok, che fa cose e le fa anche bene, non sono tutti quanti, non sono tutti quanti da disprezzare. Mi arrabbio perché l'Abruzzese è veramente forte, però è forte solo quando sta fuori dall'Abruzzo. Quando sta qua deve fare il campanilista. Sono passato, prima di venire qui, tra l'altro, ve la racconto brevemente, mi stavano uccidendo 20 cani, perché il navigatore, non so dove mi ha mannato, a un certo punto c'era sta strada di campagna, diceva, vabbè, 4 minuti di più uscirò, la strada è chiusa, 20 cani intorno, per fortuna sono riuscito a fare manovra con la macchina, altrimenti sarei stato sbranato vivo, ditelo agli animalisti. Allora, arrivo e dico, quindi adesso bisogna parlare di questo Abruzzo è gentile, no dolce, forte e gentile. Qui dicevo, l'Abruzzo è gentile della sua storia che gli passa accanto, ma che poi non mette mai radici. Allora, dicevo che fuori dall'Abruzzo ci sono delle cose interessanti e l'opportunità, secondo me, e lo spunto di riflessione deve essere quello di aprirsi agli altri, di pensare che gli altri qualche volta possono anche essere più capaci di noi. Gli altri possono fare delle cose interessanti e noi, confrontandoci, non solo capiamo di più, ma se noi ci confrontiamo con l'altro, ci facciamo conoscere, ok? E se noi ci facciamo conoscere, qualcuno finalmente riuscirà ad indicare col dito sulla cartina geografica addosso alla Abruzzo che qualche anno fa lo scambiavano per la Basilicata, il Molise e altre regioni semidimenticate. Allora, noi ci dobbiamo aprire a una cultura maggiore. Allora, negli anni la politica qui ha fatto abbastanza schifo, la politica si è occupata soltanto di costruire un ospedale per ogni campanile perché la sanità era una cosa interessante dove ci si poteva sguazzare alla grande. Facciamo anche altre cose però, non chiudiamoci dentro di noi dicendo che no se me no, perché non se me no, a volte l'ho tradotta in italiano e mi veniva fuori, scusa se esisto, ok? Mi veniva fuori, perdonami. Allora, questa frase non è sufficiente. Come non sono sufficiente? Dicevo, prima dei cani, ho visto via Ignazio Silone e mi sono ricordato che qui abbiamo avuto dei grandi esponenti del pensiero liberale. Silone, Benedetto Croce, lo stesso Pannella. Eppure, nonostante tutto, qui aleggia ancora, da sempre, una mentalità schifosa che è quella dell'assistenzialismo. A me c'è da panza l'ustata. A me lo Stato non ci ha pensato mai, se non quando dovevo presentare l'F24 per pagare l'IRPEF e non è un aereo, l'F24. Ok? Allora. Io mi sento di dire, soprattutto ai giovani, perché quelli della mia generazione sono fottuti, i nostri padri, qualcuno forse si sta godendo una decente vecchiaia, altri meno. I giovani però devono reagire, i giovani si devono aprire al mondo e devono pensare che non è vero. Ah, tenesse una zampatella. Ah, volesse andrano pustare la donanza fanu cazza. Allora queste frasi qui io non le voglio sentire più. Purtroppo io queste cose le dico perché continuo a sentire, io mi sono andato 28 anni fa, continuo a sentire dei giovani che sono nati dopo che io ero partito che parlano come i loro bisnonni. Questo non va bene. Non possiamo continuare a pensare che sempre qualcun altro si debba occupare di noi. perché non mettiamo sul campo un sogno e proviamo a realizzarlo dandoci da fare e non pensando che è l'altro che ci sta fottendo. Noi è vero abbiamo un olio straordinario, un vino straordinario, ma non è possibile che tu vendi il tuo olio. No, 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 vita me. Cateretenga 50 centesimi di meno pensando di fregare il tuo vicino di casa. Ti stai fottendo da solo. Ti stai fottendo da solo perché io poi vado in Toscana e lo pago 18 euro al litro. cerchiamo di mettere in evidenza quello che abbiamo facendoci rispettare e usciamo da questo imbarazzo perché qui c'è un grande imbarazzo che sarà dato dalla storia, venivano i popoli, i frentani, i peligni, venivano qua, boom, boom, e quindi abbiamo paura dello straniero. Sradichiamo questa cosa dal nostro DNA. Questo mi sento di dire, soprattutto ai giovani. Io faccio scuola di recitazione di doppiaggio da 15 anni a Pescara, però negli anni io, Roberto Pedicini e gli altri insegnanti ci siamo espansi e abbiamo tante altre città. I ragazzi abruzzesi sono buoni, sono dei bravi ragazzi, ma sono chiusi. Quando tu ti devi aprire a un altro, tu devi condividere la sua mentalità in maniera libera. Non lo puoi fare sempre sotto l'ala del giudizio. Che cosa dirà mio padre, mia madre, mio vicino di casa, quando gli diciamo dovete imparare a parlare in italiano perché il doppiaggio non lo puoi fare se parli in abruzzese, ma nemmeno giustamente in toscano, in veneto, quello che è. Io questo mi sento di dire questa sera, che dobbiamo reagire a questa paura dell'altro. Io penso che sia più una paura, che poi diventa aggressività. ma c'è la difesa a tutti i costi di quello che abbiamo noi così. Siccome teniamo tutti, dove dobbiamo andare? Qualche anno fa, ma neanche qualche, forse l'anno scorso, mi chiamo un regista, amico mio, bravo ragazzo. Dice, sai, dobbiamo unire tutte queste forze, ok? Tutti questi artisti abruzzesi si devono unire, gli sono operai, però vabbè, mi consideri artista, mi fa piacere. Cosa dobbiamo fare? Uno spot per l'abruzzo, ok? No, non ci voglio venire, non lo voglio fare. Non voglio fare niente io, perché non ve lo meritate. Non lo voglio fare perché tanto non accadrà nulla. Ma stai scherzando, tu lo fai per me, io per te lo farei. Ma non lo voglio fare perché non succede niente. Stai sereno, non succede niente. Hanno fatto lo spot. A un certo punto lo vedo, c'è lui, non faccio i nomi, guarda lei. Lei, lei non è un'attrice abruzzese. Hanno messo uno di Roma, uno spot per l'abruzzo, uno di Roma. Guarda l'Adriatico, si gira, adesso non mi ricordo esattamente, ma tipo, e dopo la gente se ne va alle Maldive. Alle Maldive, alle Maldive. L'Adriatico, l'Adriatico di Pescara, con gli sversamenti d'estate, non potete fare un bagno perché c'è il divieto di balneazione. In mese d'agosto sono andato, ma che succede? Stavo con lui tutte incazzate, c'aveva giustamente lo stabilimento balneare, non c'è nessuno, ma che fate? Non dite niente, che cazzo vuoi dire? Come che cazzo vuoi dire? Perché ti devi mettere a pecora? Perché devi fare il pecorone? Non è possibile due anni gli sversamenti, ci sarà qualcuno responsabile degli sversamenti? Non si fa l'ubagno, non fa niente. Non fa niente! Capito? E questo spot non è andato da nessuna parte, come io pensavo. Magari mi fossi sbagliato. Hanno fatto la serata. Politici, se tu lo cerchi non lo trovi. Stamattina volevo sentire sabattuto per essere più preciso, non l'ho trovato. C'è solo backstage. Trenta filmati di backstage. Ebbè, abbiamo fatto questo filmato, le cose. Ma che cazzo è lui filmato? Dove sta? Dove soltanto le interviste. Politici, gendali, papion. Voi avete fatto uno spot perché volevate fare una serata. E allora dille, io voglio fare uno spot perché voglio andare sul palco col papion. E io ti aiuto. Ma dimmi la verità. Perché questo spot non va da nessuna parte. Perché l'Abruzzo non lo conosce nessuno e mi dispiace che da qualche anno questa regione è conosciuta solo per un cazzo di terremoto devastante che ci ha tritato le gambe e il cuore. Vi voglio bene. Grazie. Grazie.